Buongiorno e bentrovati In questa edizione di Mattino 6, giovedì 26 luglio 2018, pronti per la nostra rassegna, una rassegna evidentemente caratterizzata dalla notizia arrivata ieri mattina della scomparsa di Sergio Marchionne. Grande spazio sui quotidiani nazionali ma anche sui quotidiani locali, traendo spunto ovviamente dalle origini abruzzesi di Sergio Marchionne, le sue origini di Cugnoli in provincia di Pescara, nato peraltro a Chieti. E infatti se andiamo proprio iniziando la nostra rassegna sulla prima pagina del centro c'è una prima pagina comune per le quattro province, per le quattro edizioni dedicate appunto a Marchionne. E infatti addio ad un grande abruzzese, Marchionne muore a 66 anni in ospedale a Zurigo dove era ricoverato da un mese. John Elkan coltiveremo i suoi valori ma FCA crolla in borsa, meno 15,5%. E poi questa foto a centro pagina molto grande che ritrae Marchionne con le due date, quella di nascita a Chieti il 17 giugno del 52 e appunto ieri la scomparsa il 25 luglio 2018 a Zurigo. E poi ancora il ritratto, il manager che salvò la Fiat dal fallimento, la sua terra appunto, l'Abruzzo, parenti e amici e il nostro orgoglio. E poi nell'articolo di Mauro Angelucci l'eredità che lascia all'Abruzzo. E poi venendo ad altre notizie locali, in particolare a Pescara, incendiato chiosco sulla riviera, rogodoloso per un furgone paninoteca, i vigili del fuoco evitano il peggio. E poi ancora i divieti nei weekend, auto in centro, multe con le telecamere. Poi i sequestri dei NAS, doping in palestra, due denunciati. A piedi pagina lo sport, calcio, Pescara test con il Teramo, oggi amichevole a Palena, il DS Leone, giovani e orgogliosi. E poi calcio e gossip, eccolo qui, Antonio Cabrini, il bell'Antonio, uno degli eroi del Mundiale dell'82, difensore della Juventus. Ebbene, Marta, la bella abruzzese che ha stregato Cabrini. L'avezzanese Marta Sannito con appunto Cabrini che, insomma, dopo aver smesso di giocare, si è dedicato al ruolo di allenatore senza peraltro grandi successi. Avanti ancora edizione aquilana del centro, vediamo in taglio medio tasse, proroga a fine anno, l'Aquila decreto concede più tempo alle imprese per la restituzione. Poi ad Avezzano, la Lega ai transfughi, niente poltrone, ad Ateleta, boscaiolo morto, indagato il padre. Poi in basso per il calcio, l'Aquila salta l'iscrizione alla D, l'impallo di accuse tra il comune e il presidente Rosso Blu, Ius. Peraltro proprio ieri su Facebook, Gianluca Ius ha sostanzialmente dichiarato di tirarsi indietro e dunque nulla da fare per l'Aquila in Serie D. Verosimilmente ci sarà una ripartenza dai direttanti. Siamo all'edizione terramana del centro, in taglio medio pronto soccorso, zero rinforzi. Teramo non si trovano medici, deserti, concorso e avviso. E poi ancora è di Giulianova, processo al marinaio detenuto in Spagna. Il progetto a Silvi due nuove fermate ferroviarie. Poi per il calcio in basso, Teramo, come abbiamo visto in ottica pescara in precedenza, anche per quanto riguarda il Teramo. Test con il Pescara, oggi amichevole a Palena. Zichella, noi una buona squadra. E poi ancora la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, in taglio medio Ateneo, telematico, due indagati. Torrevecchia, Teatina, Unidav, fascicolo in procura per appropriazione in debita. Ripa Teatina, poca igiene, sospesa ditta di arrosticini. A vasto spacciatore preso con la lista dei clienti. E poi in basso, calcio di serie D, vastese riparte per andare in C. Biancorossi al lavoro a colle di mezzo, con grandi ambizioni. Ed ora vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo. Ovviamente anche in questo caso l'apertura dedicata alla scomparsa di Marchionne. Marchionne, le lacrime dell'Abruzzo, la morte del top manager Sevel ferma i motori. D'Alfonso, tra i nostri figli migliori, i ricordi di amici e parenti che ancora vivono a Chieti e Cugnoli. Genio fin da piccolo. E poi ancora sotto la testata la protesta. Sanità punitiva in piazza, centinaia di pensionati. E poi ancora sempre a Pescara, a Movida Selvaggia. I residenti viviamo in un incubo. E poi lo sport, calcio, Pescara, caso Canutè. L'Aquila alla fine è vicina, il giocatore del Delfino non si presenta e pubblica foto dalla spiaggia di San Benedetto. Nulla da fare per sanare i lodi della società Rosso Blu. E poi di Spalla, iper chiusi di Domenica, Forza Italia, Norma salva famiglie. E poi la fotonotizia, sempre dedicata a Sergio Marchionne. Sergio Bambino, andremo sulla Luna. E poi in taglio medio, troppo grassa, niente visita del ginecologo a Chieti, paziente infuriata, chiama i carabinieri. La dottoressa, controllo inutile con quel fisico. E poi ancora Gran Sasso, acqua inquinata, indagini chiuse. A Pescara, doping nei guai, due culturisti. E proseguiamo, siamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura è psicosi meningite lungo la costa, si presenti in ospedale convinta di averla, ma è un falso allarme. Migliora il 15enne di Martinsicuro. E poi a proposito di Martinsicuro, un altro caso dopo Roseto, giovane turista punto da una siringa sotto la sabbia. A Tortoreto, quattro indagati per i buoni mensa scolastici. A Roseto, distretto sanitario di base dal PD, attacco frontale alla ASL. E poi la fotonotizia sarà battaglia in Parlamento. Nuovo ospedale, il senatore Quagliariello pone due dubbi sul progetto della ASL. L'altra partita, di spalla, vediamo una foto del sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, che adesso reclama i fondi previsti per l'ospedale di Giulianova. E poi, sì, a pienodaccio, ma solo per l'ospedale unico, Maurizio Verna, che propose la location contrario al doppione del Mazzini. A piedi pagina, trittico nel weekend, Folena, Demita e Camariere a Castelbasso. E per lo sport, test precampionato, diavolo alla prova a Pescara, questo pomeriggio a Palena. Ed ora la rassegna dei quotidiani nazionali, le prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera, il giorno dell'addio a Marchionne, i conti e la borsa, crolla il titolo FCA. Era in coma a Zurigo, Melle, il nuovo amministratore delegato di FCA. Rimaniamo forti. E poi, chiaramente, al centro, una foto di Sergio Marchionne, intanto con il ricordo di colui che è stato per anni il suo numero due, Alfredo Altavilla. Quei miei 14 anni, accanto a Sergio. E poi ancora, nell'articolo di Dario Di Vico, il coraggio e il sentimento. Un imprenditore più che un manager. Sempre in taglio medio, il governo azzera il vertice delle ferrovie dello Stato. Di Maio, correzioni al decreto dignità. E poi, in basso spazio, un lago salato su Marte, la scoperta italiana. Gli scienziati ci sono requisiti per la vita. Andiamo su Repubblica. Ecco qui Sergio Marchionne, l'orgoglio della fatica. E poi, in taglio medio, blitz del governo. Azzerate le ferrovie dello Stato. Il ministro Toninelli licenze i vertici. Più spazio ai collegamenti locali. Salta la fusione con Anas. Nomine Rai, l'ipotesi Minoli. Presidente di Garanzia Di Maio incontra San Giuliano, candidato al Tg1. E poi, in basso, il pianeta rosso. La squadra italiana compre cariche e ha scoperto l'acqua su Marte. E ora caccia ai batteri. La prima pagina della stampa, il quotidiano torinese, che apre, ovviamente anche in questo caso, con la scomparsa di Sergio Marchionne. Addio a un grande italiano morto ieri nella clinica di Zurigo. Le parole di John Elkan, un uomo straordinario. Porteremo avanti i suoi valori. Ho perso un amico, se ne va a 66 anni. Ha cambiato il destino della Fiat e ha innovato l'industria. Il presidente Mattarella. La sua visione oltre l'orizzonte. E poi, in basso, le testimonianze dell'ex premier Monti, quell'intesa per valorizzare il paese. E poi, due imprenditori. Tronchetti Provera, quando decise di cambiare tutto, è Benetton coraggioso come i piloti Ferrari. Intanto, meno 15 in borsa trimestrale di Melle. I più ricavi utili in calo. E poi, la sua Torino, le passeggiate in città tra i banchi del mercato. Avanti ancora. Sole 24 ore. Addio a Marchionne. Melle FCA resterà indipendente. Poi, ancora, le parole di John Elkan. L'uomo, l'amico, se ne è andato. Mattarella. La visione oltre l'orizzonte. Il nuovo SIO conferma i target, anche se il secondo trimestre è stato difficile. Raggiunto l'obiettivo di azzeramento del debito, profitti in netto calo. Meno 35%. E poi, qui, tanti scatti che hanno ritratto. Momenti di Marchionne. Qui, accanto a Sebastian Vettel, pilota della Ferrari. Qui, accanto all'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. E poi, altri momenti ancora. Taglio medio. Fiat Chrysler. Crolla in borsa a meno 15%. Sui listini pesano i timori dei dazi USA sull'auto. E le stime al ribasso per il 2018. E poi ancora Toninelli, azzera il CDA delle Ferrovie dello Stato. In bilico anche la fusione FS-ANAS. Non c'è alcun motivo per tenerle insieme. Poi, 14 mila. Negli impianti siderurgici dell'ILVA di Tarnato lavorano 14 mila persone. Il caso ILVA di Maio insiste con Arcelor Mittal sulle garanzie occupazionali. Andiamo sul fatto quotidiano. Ecco l'apertura. Fronte delle autonomie. 13 regioni vogliono fare da sé. Dalla Liguria alla Puglia. Ognuno chiede una competenza nuova. Dopo il referendum in Veneto e Lombardia fioccano le richieste. La Toscana vorrebbe gestire in propri beni culturali. Il governatore Totti, i porti. La ministra agli affari regionali, Erika Stefani. Il mio obiettivo è dire sì a chi ha fatto domanda. E poi ancora, Toninelli, come abbiamo già letto, azzera il CDA di Ferrovia dello Stato. E Tria stoppa le nomine per la RAI. Sfida, Lega, Movimento 5 Stelle sui TG. Sotto la testata morto Sergio Marchionne. I suoi conti affondano la FCA in borsa. Il calo degli utili fa precipitare il titolo del 15,5% al debutto del nuovo amministratore delegato Melle. Il decesso ieri a Zurigo. La versione ufficiale parla di due arresti cardiaci. Ma c'è l'ipotesi di una embolia dopo l'operazione per un sarcoma. Andiamo avanti. E siamo sul manifesto che apre in maniera diversa. Fuori casa, ora purtroppo è ufficiale, la storica casa internazionale delle donne è sotto sfratto esecutivo. Il Campidoglio ha revocato la convenzione che da vent'anni riconosceva uno spazio sociale e culturale al femminismo italiano. Ci opporremo in tutte le sedi. Poi sotto la testata muore Marchionne. FCA va in crisi. Il manager aveva 66 anni. CGL, bravo organizzatore, ma ha rotto il dialogo con i lavoratori. Il messaggero. Ecco qua una foto con il titolo. Addio Marchionne. FCA crolla in borsa. Morto in ospedale a Zurigo. Il super manager che salvò la Fiat. Funerali in forma privata. Nel giorno dell'addio l'utile del trimestre giù del 35%. Titolo a picco meno 15,5%. Bruciati 4 miliardi. Il successore Melle. Anno duro. Elkan, noi sempre riconoscenti. Cordoglio da tutto il mondo. Sotto la testata tra film e realtà. Denuncia per furto per le gemelle ladre come un gatto in tangenziale. Poi il radar italiano scopre un lago di acqua salata. Su Marte la Grecia brucia. Varoufakis accusa. Parlano di atti dolosi per coprire errori e tagli. E poi ancora di spalla processo Marra. La linea Raggi. Se condannata mi dimetto. E poi ancora il caso nomine. Ferrovie blitz del governo. Vertici azzerati. Siamo ora sulla prima pagina del tempo. Il nemico ti spolpa. Questo è il titolo d'apertura. Aumenta l'imposta sull'immondizia. Roma mai così sporca. È la più cara. Non ci crederete ma ogni anno si pagano 100 tasse. Eccole una per una. E poi ancora in taglio medio va da retro Salvini e famiglia musulmana. Salvini peggio di Satana. Critica intorno a questa copertina appunto dell'edizione di famiglia cristiana. E poi ancora l'uomo che salvò la Fiat. Addio all'eroe Marchionnevo. Preso con la duna. Velascioco Ronaldo questo nel virgolettato del tempo di Oscio con questo virgolettato immaginario rivolto da Marchionne a John Elkan. E poi ancora libero il titolo d'apertura solo da morto. Marchionne fa perdere Fiat malgrado i debiti azzerati. Nel giorno del decesso del manager il titolo crolla del 15% per diventare il numero uno. Sergio non si è goduto un soldo. E poi ancora in taglio medio brutta figura. Macron nega di essere gay costretto a una smentita. Questo non è il mio amante. Proseguiamo e siamo sulla verità. Ecco il titolo d'apertura. Più che un politico, un immobiliarista. Il quarto mutuo di Renzi, un milione di euro. L'ex premier che a gennaio dichiarava 15 mila euro in banca completa l'acquisto della villa nella zona più bella di Firenze. Per la quale, come svelato dalla verità, aveva dato una caparra di 400 mila euro. Sotto la testata ha morto Marchionne. Embolia cerebrale è l'ipotesi più probabile per una fine che Torino tiene avvolta nel mistero. Titolo a meno 15%. E poi in taglio medio, la fotonotizia, pure l'ombra del Bataclan sulla guardia del corpo che può rovinare Macron. E poi ancora per famiglia cristiana, Salvini è come Satana. Dedicato al ministro dell'interno il caritatevole titolo vada retro. Intanto è silenzio assoluto sulle violenze degli immigrati. L'avvenire, ecco l'apertura. Ma nessun uomo è mai un parassita. Salvini contro i Rom, Mattarella no ai veleni razziali. Il ministro annuncia stretta sulla protezione umanitaria, mette nel mirino i nomadi dopo il caso Roma. In 30 mila vivono nella illegalità. E poi ancora, anche sull'avvenire, viene ripresa questa notizia. Un lago su Marte, scoperta italiana, acqua liquida sotto la crosta di ghiaccio. E poi ancora in taglio medio, FCA, Dio a Marchionne. Nuova era subito in salita. E chiudiamo con il mattino. Marchionne, lutto globale, crollo di FCA in borsa. La morte del manager, funerali privati, utili giù del 35%. Il titolo perde il 15,5%. La di Manley, resteremo indipendenti. E poi la fotonotizia, ora basta. Dice, urla quasi, il mattino. Terra dei fuochi, nuovo incendio a Caivano. E allarme di Ossina. Maxirogo nel deposito dei rifiuti plastici. E' doloso. I clan vogliono l'emergenza. Possiamo lasciare i quotidiani nazionali. Ora torniamo sui locali. Siamo sul centro che dedica le prime quattro pagine, proprio alla scomparsa di Sergio Marchionne. Addio Marchionne, l'agonia è finita. Si spegne a 66 anni in ospedale a Zurigo, dove era ricoverato da un mese. Elkan, l'amico Sergio, se n'è andato. Coltiveremo i suoi valori. E poi, leggiamo in basso, l'ultima battaglia in un ospedale svizzero, struttura universitaria di riservo impenetrabile. I funerali saranno in forma strettamente privata. E poi ancora, un uomo rivoluzionario che ha salvato la Fiat, entrato in azienda nel 2004, la trasformata nel settimo gruppo mondiale, protagonista di duelli sindacali accesi, fece uscire il gruppo da Confindustria. E ora un taglio un po' più locale, appunto, su questa notizia della scomparsa di Marchionne. L'Abruzzo in lacrime, il nostro orgoglio, il ricordo di parenti e amici. Una foto del 61 ritrae Marchionne, nella scuola Nolli di Chieti. Ecco, appunto, ci aiuta anche la freccia in questa foto in bianco e nero. I familiari teatini avvisati dalla compagna del manager, i funerali quasi certamente si terranno a Toronto, dove riposano il papà Concezio, la madre e la sorella Luciane. Poi, questa frase che ha reso orgogliosi tantissimi abruzzesi, perché è dedicata proprio alla sua terra. Allora, la sua terra è chi la abita. Non ho mai visto un abruzzese arrendersi, non l'ho mai visto aspettare che arrivasse un salvatore, chissà da dove a regalargli un domani migliore. Gli abruzzesi cadono e si rialzano da soli, non perdono tempo a lamentarsi, ma fanno, producono, ricostruiscono. Poi ancora, in basso, a Cugnoli, il suo paese d'origine nel Pescarese, proclamato il lutto cittadino, cordoglio della politica da D'Alfonso Pagano e da Alessandro, ai sindaci di Primio, di Chieti, Chiola, proprio di Cugnoli e Borrelli di Atessa. Poi ancora, le reazioni alla Sevel, la sua fabbrica lo saluta come fece con Agnelli, una pausa di un quarto d'ora per ogni turno, in segno di lutto per Marchionne. Gli operai, a lui possiamo solo dire grazie, i sindacati, era un protagonista. E poi ancora, andiamo avanti, e siamo a pagina 10, pagina Abruzzo, domani notte, l'evento stellare, tutti a scrutare il cielo per le crisi totale di luna, il fenomeno visibile per 122 minuti dalle ore 21, tanti punti di avvistamento in Abruzzo, da Fossa Cesia a Mosciano, a Campo Imperatore, Scanno e Silvi, ecco dove andare. E poi ancora, a 24 e a 25, faccia a faccia con il Ministro, i sindaci tornano a Roma contro il caro Pedaggi, la richiesta a Toninelli, rivedere la convenzione e sospendere gli aumenti, altrimenti sarà lotta dura, il nuovo incontro è fissato per il 30 luglio, alle ore 16. E ora le pagine di Pescara, i divieti nei weekend, auto in centro, multe con le telecamere, due impianti controlleranno la zona traffico limitato, di via Regina Margherita e via De Amicis, accesso solo ai residenti. Le parole dell'assessore comunale Giuliano Diodati, ci sarà tolleranza per due mesi, poi dal 29 settembre scatteranno le sanzioni per gli automobilisti privi dei permessi. In taglio medio al via i lavori per il nuovo parco dello sport, quasi completata la bonifica nell'area verde di via Rigopiano, la prossima settimana apre il cantiere. E ora, sempre a Pescara, le richieste delle associazioni, piste ciclabili insicure, il Comune intervenga, le proposte di FIAB e ciclisti anonimi per migliorare la viabilità sulle due ruote, rifare il percorso sulla riviera Nord, aumentare l'illuminazione e la segnaletica. Questo specchietto riepiloga le richieste fatte dalle associazioni dei ciclisti. Avanti ancora la cronaca anabolizzanti in palestra, due denunce nei guai persone note al mondo delle palestre, tra i prodotti sequestrati da in assa, anche quelli per la disfunzione erettile. E poi, in taglio medio, riviera in fiamme il furgone Paninoteca, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio per gli investigatori, è un rogo doloso. Poi ancora sit-in delle associazioni per i villini della Pineta, la protesta stamani in via Figlia di Iorio, dopo la demolizione di un edificio, vanno tutelati i luoghi identitari della città, il Comune, dice, i vincoli già ci sono. Mentre si avvicina anche la festa di Sant'Andrea, sentitissima come sempre a Pescara, e per la festa montate già le luminarie. Avanti ancora, siamo sempre a Pescara, Sgarbi sarà un museo unico, spero che la città lo meriti, il critico d'arte ospite dei coniugi di Persio ha visitato il cantiere di Via D'Annunzio, il palazzo degli anni venti, ospiterà la preziosa collezione d'arte dell'Ottocento. Pagina di Montesilvano, hotel al completo, merito degli eventi, primo bilancio di Federalberghi per le presenze di giugno e luglio, l'85% sono italiani, ma anche francesi e tedeschi. Le parole di Adriano Tocco, il consigliere comunale e vicepresidente di Federalberghi Pescara, trend più che positivo, nonostante il maltempo di inizio estate, grazie alla varietà degli appuntamenti, anche di respiro internazionale. Ma sui parcheggi, troppa indecisione, leggiamo in dettaglio medio, la confesa ercenti, è già stato bruciato un mese della stagione estiva, va aperta subito Villa Delfico. Proseguiamo, siamo sempre a Montesilvano, a Maglia Oliva, al mare a 100 anni, dopo una vita da soprano, frequenta la spiaggia riservata ai disabili di Montesilvano, il ricordo di tanti successi, e quell'incontro con la Callas. Avanti ancora, questa è la pagina di Francavilla, Blue Bar, festival alla sterope, strade chiuse e divieti da sabato, Blue Bar che prenderà il via il prossimo 28 di luglio, inaugurazione ufficiale questa sera per la quindicesima edizione della manifestazione musicale, limitazione al traffico e sosta non consentita nella zona di Piazza Adriatico e Piazza Sant'Alfonso. L'inizio è appunto questa sera. Avanti ancora, siamo alla pagina della Valle Vestina, manifestazione di spicci GL a Pescara, taglia la sanità in 400 per difendere gli ospedali, da penne a popoli pensionati in prima linea per protestare con striscioni e fischietti, Castellucci, il declassamento ha portato disagi agli utenti e risparmi alla regione. Poi ancora, in taglio medio, tocco, addio commosso a filo musiguelfi, tanti medici, colleghi della moglie dermatologa, ai funerali del produttore di vino, scomparso a 80 anni. Pagina di Chieti, Università Telematica, Unidav, scattano i sequestri, due indagati, a Torrevecchia, finanze e carabinieri, anche alla fondazione e alla filiare B per l'inchiesta e per appropriazione in debita. Poi, in taglio medio, falsi diplomi, l'annuncio denunci casi, fisioterapisti, ordinanze del Consiglio di Stato su sette studenti, l'Ateneo nel 2013 annullò le lauree. Poi, in basso, leggiamo il NAS, sospende ditta di arrosticini, a ripatiatina, sequestrati oltre 3.500 kg di carne, per un valore di 50.000 euro. E poi ancora, a vasto, spacciatore in manette, arrestato con l'elenco dei nomi dei clienti, cocaina e marijuana trovata dalla finanza in un'auto, sugli appunti anche gli importi riferiti agli acquirenti, forse individuato un nuovo filone di distribuzione della droga lungo le località costiere, gli investigatori in corso accurate indagini. E poi ancora, siamo a Ortona, comune e commercianti, riaccendono la notte bianca, dopo un anno di stop, tornano concerti, balli e degustazioni in strada, le parole del sindaco Castiglione, serata di sano divertimento, Ortolano, pensata anche per le famiglie. Pagine di Teramo, sanità in primo piano, in particolare la vicenda della carenza di personale, pronto soccorso, non si trovano medici, il concorso va deserto, e all'avviso per un tempo determinato si presenta un solo candidato, ma è già in servizio. La direttrice Mattucci, c'è carenza di questi specialisti, ora tenteremo di fare un nuovo bando, appena finiranno gli esami delle scuole di specializzazione. E poi in basso, migliorano i ragazzi colpiti da meningite, quello di Martinsicuro è più lucido e non ha febbre, il giuliese forse dimesso nel fine settimana. A Teramo, caso Gran Sasso, acqua a rischio, gli ambientalisti pronti a costituirsi parte civile, l'annuncio dell'osservatorio dopo l'inchiesta chiusa, con i primi indagati per inquidamento, intanto la stazione ornitologica abruzzese, presenta un quinto esposto sulla questione sicurezza. e poi ancora a Silvi, due nuove fermate ferroviarie a Silvi, coinvolti nel progetto di imprenditori Pierangeli e Deugenio, le realizzazioni all'altezza delle dune e dell'universo. Avanti ancora, siamo all'Aquila, le pagine dell'Aquila, la contestata restituzione tasse, la proroga spostata a fine anno, boccata di ossigeno per le imprese del cratere, ma l'obiettivo resta l'innalzamento della soglia del De Minimis, il tavolo tecnico coordinato dal vicepresidente della regione Giovanni Lolli, sta lavorando per portare a 500 mila euro il tetto, entro il quale poter evitare il recupero. Poi ancora in taglio medio, nei pressi della motorizzazione, sgomberato campo Roma abusivo, le parole dell'assessore Emanuele Imprudente, tolleranza zero contro le situazioni di illegalità. Poi ancora elezioni, la parola al Tar, ci siamo al momento del redderazione, riconteggio, schede oggi il verdetto, i giudici potrebbero ribaltare l'equilibrio in Consiglio Comune, allo respingere il ricorso delle opposizioni di centro-sinistra, chiaramente all'Aquila. Noi ci fermiamo con la prima parte di mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità, e poi ci ritroveremo per le pagine del messaggero della città, lo sport e anche diversi servizi. Di nuovo, buongiorno, seconda parte di mattino 6, che riprendiamo con il messaggero, la morte di Marchionne. Sergio Piccolino previde lo sbarco dell'uomo sulla nuna, i compagni di classe, sapeva tutto, aveva una capacità di calcolo super, amava la musica, e Joan Baez, l'amica sua ospite a Toronto. E poi in basso, abbiamo un altro articolo, la Sevel ferma i motori per due turni, da Alfonso, figlio dell'Abruzzo migliore. Poi il ricordo anche del Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio, straordinario interprete dell'automotive, i sindacati divisi nel giudicare il manager, la Wilma, a favore larvate e critiche dalla CGL. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Pescara. Noi nell'inferno della Movida, notti insonni, musica alta e zero controlli, il racconto shock di chi da tre anni sopporta i disagi di piazza Musi e dintorni, vetri che tremano, danni ai portoni, urina e vomito, l'ordinanza deve imporre la chiusura a orari civili. Delusi dal tavolo con il sindaco, i residenti esasperati chiedono a vigili e forze dell'ordine di intervenire. Dita puntate contro l'occupazione di suolo pubblico, che moltiplica spazi e quindi incassi dei piccoli locali. Poi ancora piste ciclabili, obiettivo sicurezza, Diodati annuncia il maxi cordolo a Via Reggina Margherita e lavori in chiave filobus sulla strada Parco, le richieste della FIAB. Avanti ancora un anziano su quattro non può curarsi, ticket, tagli e ospedali chiusi colpiscono i pensionati. Ieri la protesta dell'ospice GL alla Regione, centinaia partecipanti, e Paolo Castellucci accusa l'ingorgo di pronto soccorso e geriatria effetto dello smantellamento dei servizi territoriali. Nel mirino il piano di riorganizzazione, l'aumento di budget ai privati, posizione sindacale isolata, replica Paolucci. Allora, vediamo il servizio proprio dedicato a questo sit-in dello SPI CGL davanti al Palazzo della Regione a Via Lebovio, a Pescara. Portiamo in piazza oggi il disagio profondo che abbiamo incontrato in queste settimane nelle decine di assemblee fatte in tutti i posti della nostra provincia, da Penne a Montesilvano, a Popoli, a Cepagatti, a Pescara, dove nasce e dove emerge questa difficoltà, soprattutto delle persone più fragili, degli anziani, le persone più deboli, ad affrontare il rapporto col sistema sociosanitario. Aumenta la quota delle famiglie che si impoveriscono per le spese sanitarie private, si riduce la possibilità di accedere in maniera normale, veloce ai servizi e nello stesso tempo chiaramente si fanno operazioni come quella che si vuole fare a Pescara di continuare a distribuire soldi alle strutture private per risolvere o per affrontare anche temporaneamente il problema delle liste d'attesa. Quindi noi abbiamo questa condizione, abbiamo una riduzione e un declassamento degli ospedali di Penne a Popoli che avrebbero dovuto portare alternative sul territorio, case della salute, ambulatori, H24, servizi più efficienti, invece ha portato solo risparmio per le casse della regione, disagio per gli utenti, soprattutto nelle aree più disagiate e disagio per gli stessi lavoratori della sanità. Non c'è nulla sulla medicina territoriale e oggi si vuole continuare a fare, a discutere dei grandi ospedali, dei progetti finanzi, investendo decine di milioni quando non si è investito una lira su quella della medicina territoriale. Questa situazione per noi è insostenibile, è insostenibile la vita di queste persone, è insostenibile la vita delle persone più fragili. Noi dobbiamo cambiare rotta e vogliamo dirlo oggi, lo diremo domani, lo diremo a chi verrà dopo questa amministrazione. Per noi il livello di risposta che si dà alle persone più fragili, alle aree più deboli, alla salute delle persone è la cartina al tornasole per decidere se è una società civile e moderna o se è una società che guarda al degrado e all'arretratezza. Oggi qui a Pescara c'è il primo cittadino di Popoli, voi siete preoccupati per le sorti del vostro ospedale, per questo ridimensionamento di cui tanto si parla? Beh, la preoccupazione non è una preoccupazione di questi giorni, ma una preoccupazione di anni. Noi a Popoli, solo grazie all'emendamento Castricone dello scorso anno abbiamo mantenuto quello che avevamo, altrimenti il ridimensionamento a piccoli passi va avanti e noi ormai sono anni che ribadiamo con assoluta fermezza il non essere d'accordo su nulla sulle politiche sanitarie che la Regione sta portando avanti e che penalizzano fortemente soprattutto le zone del centro Abruzza. Prima di proseguire una notizia che è da poco arrivata nella nostra redazione, questa mattina intorno alle ore 6 si è verificato un incendio all'interno di un locale semi-interrato dell'hotel Hermitage a Silvi Marina, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto, degli Abruzzi e dei comandi di Teramo e Pescara. L'incendio al momento è sotto controllo e si sta completando lo spegnimento delle fiamme, ancora presenti in un deposito l'hotel che ha 12 piani e 140 camere. Al momento dell'incendio ospitava 300 persone ed è stato completamente evacuato. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, sempre sulle pagine di Pescara, del messaggero Villa Serena, debutta nel ramo delle farmacie, la figlia della titolare Giulia Baldassare acquista la comunale di Città Sant'Angelo dalle cliniche alle medicine, con un'offerta da un milione e mezzo si completa la filiera sanitaria. Poi ancora palestre e doping, sostanze proibite, sequestrati in casa di due culturisti. 2000 confezioni di fiale e pasticche nella rete del NAS, sono farmaci esteri importati e venduti senza controlli. Poi ancora in taglio medio, Iper, la cessione alla Conad preoccupa i 200 addetti. A Città Sant'Angelo, il principale dei tre supermercati coinvolti, il sindaco ha convocato una assemblea civica, crisi congiuntorale, superi e contratti di solidarietà complicano il quadro, sindacati e 5 stelle, la regione si muova. E ora nelle pagine dell'Aquila, Cicchetti, la ricostruzione non riesce a tenere il passo, il presidente dei costruttori lancia l'allarme per la prima volta, meno addetti nei cantieri, poco personale anche negli uffici, le pratiche da evadere, sono 1820. L'associazione per l'edilizia esprime tutte le sue perplessità nel giorno in cui la terna torna a tremare, sisma di magnitudo 3. E poi di spalla, Anatra Zoppa, il Tar pubblica il verdetto, falso errore materiale al seggio 41, stamani la sentenza che minaccia la giunta Biondi. E poi ancora, sempre all'Aquila, verso un centro storico pedonalizzato, il progetto del comune partirà alla fine della ricostruzione, si faranno isole pedonali come quella di via Iacobucci, verrà favorita la mobilità elettrica con una corsia dedicata, però sarà necessario ridefinire tutto il sistema dei parcheggi. Le parole del sindaco Biondi, il capologo rinascerà senza smog, il cittadino dovrà essere libero di girare a piedi. E poi ancora, ad Avezzano i Torlonia diventano location culturale. Il presidente del Consiglio regionale di Pangrazio annuncia la restituzione di palazzo e parco alla città, partono da subito le iniziative da Proloco Regione Tudico. Questa è la nostra nuova vetrina della Marsica. Serie di eventi in collaborazione con il Quirinale per gli studi storici, mostre e stagione teatrale. Vediamo a tal proposito il servizio. Cultura, sport, enogastronomia e artigianato, c'è questo e anche di più nella 17esima edizione della settimana marzicana che si svolgerà dal 30 luglio al 5 agosto ad Avezzano, nella splendida location di Villa Torlonia e nelle strade adiacenti. La presidenza del Consiglio regionale ha messo il suo patrocino all'iniziativa, riconoscendola come una delle più importanti e significative del territorio. Eventi diversi che mettono comunque in luce le qualità più importanti sotto il profilo economico e sociale della città di Avezzano e della Marsica intera. Il comune di Avezzano e la Proloco organizzano, ma ci saranno ben otto eventi, propri della presidenza del Consiglio regionale. Ad illustrarla è il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. La presidenza del Consiglio ha rimesso a disposizione Parco e Villa Torlonia proprio perché c'è una richiesta, c'è un'esigenza da parte del territorio, non solo marsicano ma anche regionale, di voler organizzare delle iniziative all'interno di questo splendido complesso, restituita alla collettività dove la regione Abruzzo, di nuovo il Consiglio regionale della presidenza, fanno da tutor. Quindi all'interno di queste iniziative che l'ufficio di presidenza, la presidenza organizza, sono incontri, le istituzioni incontrano i cittadini, si sono inserite anche Proloco e Comune di Avezzano a voler organizzare una serie di eventi. La Proloco organizza la settimana marsicana, che è un evento storico che veniva fatto negli anni 50 nel nostro territorio marsicano, è stato ripreso da due anni da questa associazione Proloco e questa è la terza nuova edizione, è da valorizzare perché è una settimana piena di circa 114 eventi. Poi ci sono queste otto iniziative dell'ufficio di presidenza che sono le istituzioni incontrano i cittadini, che vanno dalla storia del Parco Torlonia e Villa Torlonia, incontro con la musica abruzzese, incontro con il sistema delle realtà abruzzesi per far conoscere questo progetto sull'idrico integrato nel Fucino, incontri con le università abruzzesi per far conoscere le nostre università, le migliori eccellenze, insomma una serie di attività che coinvolgono cittadini e istituzioni. Il Comune di Avezzano ci ha chiesto di poter organizzare circa 11-12 rassegne di teatro amatoriale all'interno e quindi si è formato un carnet di iniziative che possono essere gustate non solo dalla collettività regionale abruzzese ma anche dai cittadini limitrofi alla nostra regione. Pagine di Chieti del Messaggero, sei troppo grassa non ti visito, bufera su una ginecologa al consultorio della ASLA, arrivano i carabinieri, la paziente farà denuncia ma anche la ASLA avvia accertamenti interni. Mi ha detto non vedi che pancia che hai, non riesco a vedere l'utero, il racconto della giovane madre sotto shock. La direzione della struttura esprime rammarico, già fissato un appuntamento con un altro medico. Poi ancora di spalla erbacce, rifiuti e muffa il degrado della casa dello studente mai aperta in via Gran Sasso. La struttura costata 3 milioni e in completo abbandono cede anche l'intonaco. Ecco alcuni scatti che ritraggono appunto questo stato di abbandono in cui versa la casa dello studente. A Lanciano la Sevel li caccia, il giudice li assolve due dipendenti finti malati per andare a coltivare la vigna, confermata la truffa ma ha riconosciuto il danno non grave. L'Inps parte civile per l'indenità erogata e non dovuta. L'azienda è venuta meno la fiducia, li ha messi alla porta. Andiamo ora sulle pagine di Teramo del messaggero, sversamenti, acqua, Gran Sasso. Gli ambientalisti parte civile, la procura ha chiuso le indagini preliminari per il primo caso denunciato l'anno scorso. È finita nel mirino la contestuale presenza della sorgente con laboratorio e autostrada. Giorgio Gianella del forum H2O, le criticità ormai si conoscono tutte, non era necessario fare altri esposti. Poi di spalla Braga, la regione stanzia fondi per i dipendenti. Questo è un momento della conferenza di ieri, alla presenza degli assessori di Ignazio e Pepe, del consigliere regionale Monticelli e del presidente dell'istituto Sergio Valente. A Giulianova cadono alberi, la ASL chiude il parco, cancelli sbarrati, evitato entrare al Cicomendes. Il comune fa sistemare una rete che delimita i pini cadenti. È la prima estate che uno spazio così importante non si riempie. Ed in una parca eventi, manifestazioni e grandi concerti all'aperto. Lasciamo il messaggero, approdiamo ora sulla città il quotidiano della provincia di Teramo. Partiamo da pagina 4 con le parole del parlamentare Gaetano Quagliariello, leader del Movimento Idea. Quagliariello, ne faremo una battaglia parlamentare, una quale? Quella dell'ospedale Nuovo. Una scelta che mortifica il centro città e il senatore azzurro contrario al progetto della nuova struttura di Pianodaccio. Per Quagliariello è sbagliato decentrare servizi così importanti come quelli sanitari, soprattutto per il momento di difficoltà che vive il capoluogo Teramane. Poi in basso le parole del consigliere comunale Verna, sia a Pianodaccio ma solo per l'ospedale unico provinciale. Non indugiamo troppo sul destino del vecchio ospedale se si dovesse riuscire a costruire l'ospedale unico. Un anno fa è stato il consigliere comunale del PD a proporre il sito tra lo stadio e San Nicolo a Tordino. Poi ancora liberati i fondi per l'ospedale Giuliese. Il sindaco Mastromauro chiede alla politica regionale di rispettare i patti. E poi scuole sicure, terremoto, cantieri aperti alle superiori, lavori in corso al Delfico, al Comi, al Montauti, al Mildi. Tutti gli edifici adesso sono a norma antincendio. La provincia ha eseguito la ricognizione degli immobili scolastici per programmare gli interventi, per adeguarli alle norme antichismiche serviranno a 163 milioni di euro, di cui 95 da destinare a Teramo. Avanti ancora siamo alla cronaca giudiziaria Cantagalli e Ruffini verso l'archiviazione. Le intercettazioni scagionano l'imprenditore e il politico indagati per lo stadio Bonolis e Palazzo Centi. La maxi inchiesta spuntata all'Aquila da uno stralcio delle indagini sulla sede della giunta regionale ha coinvolto 30 indagati. Avanti ancora Ruzzo Cognitti, vicepresidente per il Dopo Forlini, inviadati i primi movimenti in vista dell'avvicendamento della presidenza, prevista per l'estate 2019. E poi ancora Valente punta al BIS dopo aver sistemato il Braga, azzerati i debiti precedenti, la statizzazione, grazie a 300 mila euro concessi dalla regione Abruzzo. Questo è martedì, scatono i tre anni di presidenza Valente, successore stavolta sarà indicato al ministro dal CDA. Allora vediamo il servizio sulla conferenza stampa di ieri al Braga. Per il Conservatorio Braga questo è un giorno magnifico, direi un giorno di grande gaudio perché stiamo suggellando un patto con la regione Abruzzo che in transazione ci ha concesso 300 mila euro. Direi che sono gli ultimi di una lunga catena di soldi che sono stati necessari per sanare le vecchie passività. Io ricordo ancora con un pizzico di terrore tre anni fa, al momento in cui mi insediai, non c'era una sede, c'era un debito estremamente elevato, non sto qui a precisare le cifre. Pochi allievi, un centinaio e anche pochi docenti, una quindicina. Eravamo veramente uno sparuto gruppo di artisti che cercava di lasciare questa centenaria e gloriosa istituzione terramana per tenerla in piedi. Oggi la sede è visibile a tutti, il debito grazie all'intervento della regione e poi naturalmente insieme a quella che è stata la nostra forza, la nostra abnegazione per portare avanti questa istituzione, questo conservatorio che veramente sta ottenendo risultati isperati. Vorremmo che si definisse conservatorio, oltre per tutti perché questo messaggio passa poco, è in Teramo e nella provincia di Teramo. Abbiamo deciso anche da alcuni mesi con l'Abruzzo dal vivo e tante manifestazioni fatte sul territorio del cratere che la ricostruzione avviene anche su beni materiali e immateriali, come in questo caso la cultura. Credo fortemente e dobbiamo lavorare tutti insieme con l'amministrazione degli enti locali anche per quel luogo fisico dove dovrebbe rinascere la piazza della verdura a Teramo l'istituto Braga. L'istituto che diventa sempre più importante per il territorio è un riconoscimento fondamentale avvenuto alcuni anni fa per la stratalizzazione, qui siamo soddisfatti. Le notizie dalla provincia, sempre sulla città, quinto esposto sull'acqua del Gran Sasso. La mobilitazione si rivolge di nuovo alla procura per l'arroccamento degli enti rispetto alle segnalazioni. Le parole dell'osservatore indipendente, al di là delle singole responsabilità che dovranno essere accertate via l'esigenza di comprendere le mancanze del sistema di sicurezza di uno dei principali acquiferi del nostro paese. E qui torniamo alla cronaca, migliora il ragazzo colpito da meningite, intanto lungo la costa è scattata la psicosi, donna accompagnata al Mazzini con presunti sintomi, rivelatesi poi un falso allarme. Il quindicennio di Martinsicuro sta rispondendo bene alla terapia antibiotica. E poi ancora in Val Vibrata, Tortoreto, quattro indagati per i buoni mensa tortoretani ai rivenditori nei guai per peculato, sequestrati beni per 110 mila euro. A finire sotto inchiesta, però messa a denuncia anche due dirigenti del comune di Tortoreto. A Mosciano, soluzione tampone per la famiglia sfrattata, accettata la proposta dei servizi sociali per quattro mesi, saranno ospitati da un residence fuori Mosciano. Ad annunciare la soluzione è stata la Maria Cristina Cianella, la consigliera comunale interessata al caso da tempo. E qui siamo a Silvi, doppia smentita sui fondi per Salvini, la visita del ministro dell'interno a Silvi finanziata unicamente dalla Lega. Il caso è nato quando il Movimento 5 Stelle ha chiesto l'UMI su una variazione di bilancio per finanziare gli eventi estivi. E poi ancora siamo a Roseto, Salvatore attacca la ASL sul distretto sanitario di base di Roseto. Il capogruppo PD parla di situazione vergognosa per una struttura che assiste 200 mila utenti. E' una vergogna che il numero e la qualità dei servizi proposti risentano in maniera disastrosamente negativa della mancanza di spazi in una struttura nata a metà del secolo scorso. E apriamo ora la parentesi dello sport in questo finale di rassegna stampa. Siamo sulla città sempre, diavolo alla prova pescara. Oggi testa a Palena dopo la buona prova col Benevento. Il Teramo affronta il Delfino nella seconda amichevole. Alle 17 al campo di Palena appunto quest'altro test per il Teramo. Situazioni di mercato, Spighi sulla lista dei partenti ma serve un acquirente. Con Barbuti si cercherà un altro accordo. E poi ancora per la Serie D il Real Giulianova riparte con entusiasmo. Le parole del neotecnico Nico Stallone con i piedi per terra e con lo sguardo verso il cielo. Del grosso ho un sogno nel cassetto. E sono due dei protagonisti di questa stagione. Il tecnico e il capitano giallorosso alla vigilia di una stagione importante per il calcio giuliese. Facciamo un break con le testate nazionali. Gazzetta, Corriere e Tutto Sport. Ecco qui il titolo d'apertura della Gazzetta. Higuain, Milan presente. I rossoneri accelerano, il Pipita è più vicino. Passo indietro del Chelsea sul bomber. Sarri, Punta Reina, se parte. Donna Rum rimane per Bonucci e la Juve. La carta caldare. Poi ancora sotto la testata Sergio Marchionne, gigante in maglione. Anche la Gazzetta dà un ampio spazio, chiaramente la scomparsa di Sergio Marchionne. Poi di spalla effetto Lautaro, feeling con i cardi e l'Inter sorride. Andiamo sul Corriere dello Sport. Ecco qui sotto la testata il rip per Sergio Marchionne. Lo Sport e il mondo intero piangono la scomparsa di un grande italiano. L'uomo che ha salvato la Fiat e rilanciato la Ferrari. Il suo dio fa tremare le borse e getta ombre sul futuro. E poi a centro pagina Abramovic fa shopping a Milano. Il Chelsea si presenta in città per gli affari di Sarri. Appuntamento con la Juve. In ballo gli acquisti di Higuain, Pjanic e Rugani. Appuntamento con il Milan. Si parla di Morata e del contratto di Conte. Ufficiale Leonardo DT, rosso-nero. E poi di spalla Napoli ho preso Arias. Inter Vidal si del Bayern. E poi la scoperta della nuova A con i calendari. Questo pomeriggio alle 18.45. Avanti poi con tutto sport. I tifosi della Juve si schierano Bonucci. Meglio Caldaro. Lo scambio fra i bianconeri e il Milan si è momentanamente arenato. Ieri altri incontri. Si cerca un accordo per Higuain. E poi Genio Italiano. Il titolo sotto la testata. Si è spento Marchionne. Bandiera a mezz'asta in FC a Ferrari. Juve con il lutto al braccio nella partita giocata nella notte. E vinta a Philadelphia contro il Bayern per 2-0. Peraltro con due gol di Favilli. Andiamo, o meglio, torniamo sui quotidiani locali. E lo facciamo con il centro. C'è questa intervista al DS del Pescara Luca Leone. Giovane e orgoglioso. Vi svelo il mio Pescara. Leone a 360 gradi serve un grande gruppo. Giocare qui è un privilegio. Il calcio si fa per vincere o per vendere giocatori in grado di fruttare plus valenze. Il Delfino con Sebastiani Presidente è stato bravo a fare entrambe le cose. E poi da Macin a Gravion il nostro patrimonio tecnico è aumentare parecchio il mio sogno e il modello Atalanta. E possiamo realizzarlo. E poi a proposito di mercato. Ipotesi Busellato. C'è Liento a Catanzaro. Oltre a Swagher può arrivare l'ex Bari. Sondaggio della Saernitana per Cocco. Poi sul fronte Serie C Zichella. Buon terramo ma bisogna eliminare alcune ingenuità. Oggi ore 17. Amichevole a Palena contro il Pescara. Il Terzino Vitale. Un ex Biancazzurro peraltro. A grandi passi verso il tesseramento. In basso l'Aquila oggi dice addio alla Serie D. Alle 17 scadono i termini per discrizione. Rimpalo di accuse tra Comune e Ius. E poi ancora calcio e gossip. Marta la marsicana che ha conquistato il cuore del bell'Antonio. L'ex campionessa di atletica vezzanese. La compagna di Cabrini. Ero innamorata già della sua figurina. Poi l'incontro per caso. E andiamo anche sul messaggero Abruzzo. Con lo sport Pescara. Operazione sfoltimento rosa. Canute non si presenta. E' posta la foto in spiaggia. Per la difesa spunta Swagher dall'Atalanta. Capone, Scamac e Melegoni. Oggi in Under-19 contro la Francia. E' la semifinale del campionato europeo Under-19. Possibile ritorno dell'ex Bruno che ha rotto con il Livorno. Intanto ricomincia la stagione della cantera biancazzurra. Con Luciano Zauri alla guida della primavera. E per la Serie C Teramo Piccioni resta sotto osservazione. Doveva essere l'attaccante titolare. Ma da oltre un mese vive ai margini del gruppo. E poi ancora per la Serie D. L'Aquila alla fine è vicina. Nessuna traccia del pagamento dei Lodi. Oggi la scadenza. Piccinini basta favole. L'assessore duro. Non esiste alcun progetto. Si riparte da zero. Ho già contattato la federazione. E poi il Pineto. Pineto che teme l'arrivo del Bari. Farebbe parte delle società in sovrannumero. Dopo l'esclusione dalla B. Amaolo è fiducioso. Noi siamo giunti alla fine di questo appuntamento con Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il nostro TG. Ore 14, ore 19 e ore 23. E poi vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 21. Con un altro numero speciale di Velo. Il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo. Anche questa sera con una location esterna. la conduzione di Jacopo Forcella e la partecipazione del lidatore Luciano Rabottini. Grazie a Silvia Gentile in regia. E grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.